Un solo punto nelle ultime tre partite, una sola rete messa a segno peraltro è inutile e hanno fatto scivolare la Gelbisona dai quartieri nobili a ridosso della zona play-off a un centro classifica anonimo. Un aspetto che non sembra essere andato giù al presidente del club cilentano Angelo Noce, apparso molto contrariato per la piega che la squadra ha preso. Sono amareggiato per l'atteggiamento assunto dai calciatori che prima della sosta avevano avuto un cammino impeccabile, poi c'è stata questa brusca inversione che ci ha portato soltanto quattro punti, di cui solo uno nelle ultime tre partite, tutte alla nostra portata. Il numero uno della Gelbisona non esclude che questo rilassamento scaturisca dal fatto che la squadra abbia messo quasi al sicuro il traguardo salvezza, ma non giustifica il comportamento dei suoi ragazzi. Non è escluso, dice che una volta centrato l'obiettivo salvezza nella squadra sia subentrato una sorta di rilassamento, ma non deve essere così, ho sempre detto, che non bisognava fermarsi. Sulla stessa lunghezza d'onda il tecnico Pasquale Logarzo, la squadra sembra aver mollato un po', non me l'aspettavo, così facendo, quando affronti squadre con grandi motivazioni come quelle che vogliono salvarsi, c'è il rischio di tornare a mani vuote. Dobbiamo ritrovarci subito perché voglio ricordare che neanche noi abbiamo raggiunto l'obiettivo, anche se è a un tiro di schioppo. Voglio vedere già a partire dalla sfida con la Caveso una squadra diversa, con spirito combattivo e con quella determinazione e la giusta mentalità che ci hanno fatto fare bene nella prima parte della stagione.